Ciao a tutti, ho preso tutto il coraggio che avevo e ho deciso di partecipare a un altro contest. Questa volta partecipo al contest di Giovanna, conosciuta su YouTube come Le Croix, e ora inizio a mostrare le mie creazioni. Non ricordo se tu l'hai detto, se sono io che non ci ho fatto caso, ma non mi sembra che tu abbia messo un limite alle creazioni. L'unica cosa che avevi chiesto è che venisse mostrata almeno una creazione su San Valentino. Quindi io comincio con le creazioni in resina, inizio a farle vedere velocemente perché sono un pochine. Questa è una colata che ho fatto mettendo un charms dentro un cabochon. Questo invece è fatto con uno stampo, dove ho inglobato dei charms. Questi alcuni sono ancora da finire e quelli senza il gancetto è perché ho intenzione di inglobarli in una creazione con il fimo. Questo l'ho fatto con la resina trasparente e poi gli ho passato gli smalti e poi un'ultima colata dietro. Come anche questo, è fatto con gli smalti a craclè. Mi diverte molto l'effetto che fa. E poi una colata dietro. Anche questo. La resina ha un brutto effetto con il flash del cellulare. Non so come... Ecco, forse è così. Si sberluccica un po'. Poi questo invece è fatto in fimo. Con una texture e due brillantini. Questo è anche fatto in fimo, però poi invece di usare la vernice di finitura gli ho colato uno strato sottile di resina. Per poter fare star fermi gli ingranaggi. Anche questo. E poi mi sono divertita ultimamente a fare anche dei braccialettini. che ho acquistato molte perle e ho provato, però non credo di essere portatissima. Ho fatto questo, poi ho fatto questo, seguendo un tutorial di Valentina o mi sembra. E anche questo, sempre seguendo un suo tutorial. Poi passiamo alle mie creazioni in fimo. Ho fatto un pandino con una gocciola. un follettino semplice. Una geisha kokeshi, credo che si chiamino così. Non lo sta in piedi. Questo mi è stato richiesto da Charin. A lei piace molto lo stile simpunk e quindi l'altra sera mi ha chiesto di farle questo e ci ho provato. E' venuto un po' strano, la chiave si è staccata un pochettino. Poi un piccolo follettino che ho fatto per attaccare su una cornice che devo regalare, quindi il piatto dietro. Però la cornice non l'ho ancora finita. Però questa sì. Se ce la faccio prenderla. Eccola qua. Aiuto non ci sta. Devo fare un regalo di compleanno a un fratellino e una sorellina, quindi ho pensato di fare queste due cornici. A lei ho fatto la sirenetta con, diciamo, cose di mare. E invece per il fratellino farò appunto a tema folletti. Poi siamo quasi arrivati alla fine. Questa invece è un'altra follettina però un pochettino più lavorata che è quello semplice. C'è anche questa. La faccio un po' ingrugnita. E adesso l'ultima creazione, quella a tema di San Valentino. Spero che sia abbastanza a tema di San Valentino. Ho fatto due polipetti innamorati, tutti attorcigliati, che tengono un po' vicino. a guardia del tesoro. Una conchiglia vera con un po' di resina. E queste erano tutte le mie creazioni. In bocca al lupo a tutte e grazie a Giovanna per questa opportunità. Ciao ciao!